Musica Bentornato Cutier, bentornata La volta scorsa ho iniziato a parlare di Driver e continuiamo quindi nella descrizione Andiamo a scovare quelli che definiamo Dinosauri Perché? Nella precedente lezione abbiamo individuato un metodo per scoprire e scaricare i driver che sono relativamente giovani di un dispositivo che ho appena acquistato ma potresti trovarti nella condizione di dover scaricare dei driver relativamente vecchi e avere l'amara sorpresa che il fornitore non fornisca più il supporto software per scaricare questi driver Se i suggerimenti della precedente lezione non ti hanno aiutato a risolvere il problema naturalmente dovrai iniziare a navigare su internet per tentare altre strade Una di queste potrebbe essere il canale peer-to-peer come i programmi Emul o Torrent o più semplicemente eseguire una classica ricerca partendo dai vari motori L'unica cosa è che devi ricordarti che la ricerca sarà lunga ed ostica e anche densa di minacce perché potresti trovare dei driver non propri o altresì trovare dei veri e propri malware Ma come penso hai ormai capito con le armi giuste potrai difenderti alla grande potendo così sfruttare anche la virtualizzazione e testare tutti i file che ti scaricherai Per eseguire una ricerca dei driver tramite i motori di ricerca è sufficiente che tu scriva all'interno del campo di ricerca il nome del dispositivo aggiungendo il prefisso o il suffisso driver Per scaricare dei driver di una scheda grafica potrai scrivere scheda grafica tal detali driver o ancora più semplicemente driver scheda grafica tal detali e tramite una lista se sei fortunato se sei fortunata già nelle prime pagine potresti riuscire ad individuare qualcosa che ti può essere utile Altra possibilità è vedere se questo dispositivo magari è stato già installato su qualche altro computer di tua proprietà o tramite nella cerca delle due amicizie perché in caso positivo potrai estrarre una copia di questi specifici driver per il determinato sistema operativo e tentare l'installazione all'interno del tuo computer Come? L'estrazione del driver può avvenire tramite dei programmi Io personalmente utilizzo DriverMax che è tra l'altro un programma molto completo e gratuito Una volta che hai installato questo programma esso esegue una scansione di tutti i dispositivi all'interno del tuo computer all'interno del tuo sistema operativo e potrai esportare il singolo driver o tutti i driver su una periferica e poterli installare importare o ancora ripristinare sul nuovo computer o su un computer privo di determinati driver A margine di questo discorso ti dico che può esistere anche la possibilità che il sistema operativo quando è appena installato non riesca ad acquisire tutti i driver delle periferiche presenti all'interno del computer Cosa fare? In alcuni casi potrai eliminare il problema semplicemente utilizzando i dischi ottici a supporto del PC quelli che hai trovato dentro la scatola quando hai acquistato i singoli componenti o il computer A volte però potresti non possedere questi dischi oppure non sono compatibili con il sistema operativo Eseguendo una verifica infatti dopo che l'installazione non sarà stata portata a termine troverai all'interno della lista dei dispositivi questa è una sezione che in seguito scriverò durante il percorso didattico dicevo all'interno di questa lista trovi tutti i dispositivi installati ed eventualmente i dispositivi che non sono stati riconosciuti e vengono evidenziati con un dispositivo sconosciuto con un simbolo di punteggiatura Puoi tentare di individuare a questo punto la periferica sconosciuta in diversi modi Un primo passo è scaricare un programma che è dedicato e anch'esso gratuito che anche se è un po' datato comunque potrebbe funzionare questo programma è chiamato nemmeno a farla apposta unknown device appunto dispositivo sconosciuto e secondo il programma se avrai la fortuna potrai visionare i dati che ti permetteranno di individuare il dispositivo e cercare così i driver per il suo funzionamento a volte sarai talmente fortunato talmente fortunato che troverai proprio tutti i dati completi del dispositivo in termini di marca e modello Un altro metodo per risalire alla periferica sconosciuta è individuare le informazioni all'interno di una sezione di Windows per poterle utilizzare in seguito sempre dalla zona relativa ai dispositivi che si avvia partendo dal pannello controllo una volta che hai individuato il dispositivo sconosciuto clicca su questo dispositivo con il pulsante destro andando ad individuare proprietà cliccaci sopra e si evidenzerà una scheda tipo questa dopodiché andrai a selezionare la sezione dettagli da questa sezione potrai avrendo un menu a tendina con diverse sigle potrai andare a selezionare l'un l'altra tutte queste sigle ogni sigla potrà fornirti delle informazioni che possono essere utili come il fornitore del dispositivo o la classe se ad esempio è un modello usb l'identificativo numerico del dispositivo ed anche una sigla chiamata percorso istanza dispositivo tutti questi dati corrisponderanno in particolare ad una stringa alfanumerica di questa stringa selezionandola completamente e copiandole ed incollandola all'interno di un motore di ricerca all'interno del campo di un motore di ricerca potrai ottenere informazioni preziose fin anche ad individuare propriamente la periferica i codici a cui dovrai porre particolare attenzione sono indicati con le sigle VEN che indica il produttore del dispositivo e la sigla DEV che indica il numero identificativo del dispositivo a questo punto come dicevo in precedenza grazie a motori di ricerca e ad altri software potrai individuare dapprima il dispositivo ed in seguito sperare di trovare i driver ammesso che ovviamente siano stati rilasciati con i codici VEN e DEV potrai anche individuare la periferica grazie a PCI database.com all'interno di questo sito ci sono due campi inserendo all'interno dei campi Vendor Search e Device Search o l'uno o l'altro i due parametri che avrai evidenziato in precedenza se sono stati inseriti nell'archivio di questo database potrai individuare la periferica sconosciuta l'altra possibilità per risalire a questi codici è utilizzare un altro programma chiamato USB The View dopo averlo avviato questo programma presenterà diverse colonne appunto Vendor ID e Product ID nella quale potrai individuare dei codici preziosi per il dispositivo queste sono solo alcune delle possibilità ma altri programmi simili a quanti appena evidenziati ne troverai a questo punto come installare i driver una volta che li hai ottenuti potrai installarli in base a come si presentano probabilmente saranno in formato compresso e quindi grazie a dei programmi dedicati io personalmente utilizzo 7zip potrai decomprimerli e ottenerli in formato puro dopo che li hai decompressi potranno presentarsi o come un file di installazione quindi con un file eseguibile oppure con una cartella all'interno una serie di file che impiegherai durante una procedura guidata nel primo caso se non sai come fare ad installare un programma ti rimando alla lezione numero 71 e soprattutto al suo video tutorial che ti spiegherà come eseguire l'installazione di un programma e quindi in questo caso dato che questi driver si presentano con un file eseguibile li puoi paragonare ad un programma se invece hai una cartella al cui interno ci sono dei driver dovrai comportarti in maniera leggermente diversa infatti dovrai eseguire una procedura guidata durante la stessa dovrai indirizzare la ricerca dei driver proprio all'interno della cartella che hai decompresso come si avvia la procedura guidata semplice inserisci la periferica in un ingresso del tuo computer normalmente sarà una periferica USB e attendi che il sistema operativo reagisca e inizi la procedura di installazione se la procedura viene portata a termine da sola ben venga altrimenti potrai trovare una situazione che non trovandoli il sistema operativo ti chiederà dove cercarli dovrai indirizzarli come in precedenza all'interno della cartella dove sono presenti grazie a un pulsante sfoglia di norma non avviene con i sistemi operativi nuovi la condizione più frequente è che il sistema operativo ti notificherà l'assenza dell'installazione e quindi dei driver nell'assistray e l'impossibilità di portare a termine l'acquisizione della periferica ora in questo caso sempre aprendo gestione di dispositivi dal pannello controllo non potrai far altro che individuare il dispositivo che non è stato installato nel quale avrai presente un simbolo di punteggiatura giallo sarà sufficiente cliccarci sopra con il pulsante destro del mouse e individuare la sigla aggiornamento software driver cliccaci pure sopra per avviare la procedura guidata oppure puoi seguire la stessa cosa sempre cliccandoci con il pulsante destro individuare la sezione proprietà dopodiché si aprirà una nuova schermata e grazie a due sezioni etichettate con la sigla generale oppure con la sigla driver troverai lo stesso il pulsante aggiornadriver e potrai avviare anche in questo caso la procedura guidata che ti permetterà di installare i driver del dispositivo indirizzando la ricerca proprio nella cartella che contiene questi driver infatti nella finestra che si apre subito dopo c'è un pulsante che è indicato con la frase cerca il software del driver nel computer a questo punto dovrai indirizzarlo nella cartella di qui sopra dopo qualche secondo o al massimo pochi minuti se tutto procede correttamente la tua periferica potrà essere utilizzata dal sistema operativo qui vediamo rappresentata tramite un'immagine ciò che accade quindi partendo dal pannello di controllo individuando gestioni dispositivi si aprirà la lista dei dispositivi cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse cliccando su proprietà si presenta questa schermata come vedi ha tre sezioni generale driver e dettagli una volta che puoi uscire l'uno all'altra in questo caso specifico driver puoi visionare i dettagli dei driver ma non in questo caso perché non sono installati aggiornare i driver per la installazione o l'aggiornamento disattivare la periferica oppure disinstallare la periferica stessa cliccando su aggiorna driver partirà la procedura guidata e dovrai indirizzare la ricerca dei driver all'interno del disco rigido ossia della cartella dove hai indirizzati infatti si presenterà dopo qualche schermata questa finestra e grazie al pulsante sfoglia si aprirà esplora risorse che potrai andare ad utilizzare per indirizzare la ricerca dei driver nella cartella che avrai scaricato allora proviamo a vedere come poter individuare dei driver mi trovo all'interno del motore di cerca più conosciuto naturalmente supponiamo di voler individuare i driver di una scheda video simolo la ricerca della scheda video installata sul mio computer che è una nvidia geforce per per poterli scaricare possiamo individuarli direttamente partendo dal nome e modello della scheda scriviamo pure il nome nvidia geforce 9400t 9400t e come puoi vedere GT come puoi vedere già troviamo qualcosa in prima pagina andrei direttamente nel sito della casa che li produce quindi nvidia.it clicchiamo su questo pulsante e qui troviamo la presentazione di varie schede in particolar modo cliccando sulla nostra scheda possiamo individuare le caratteristiche di questa scheda ma noi dobbiamo andare a scaricare i driver di norma puoi trovare varie sigle tipo supporto supporto tecnico download in questo caso specifico addirittura trovi il pulsante drivers scarica drivers quindi clicchiamoci pure in alternativa potresti anche scrivere direttamente qua nel campo di ricerca marca e modello o meglio la marca la sappiamo il modello della scheda ed effettuare una ricerca che potrebbe essere in alcuni casi più rapida ma più rapido di questo non c'è quindi clicchiamo sul pulsante scarica drivers qui si presenta una maschera di filtri ovviamente quella che dobbiamo scegliere noi è una Geforce per cui lasciamo invariato questo pulsante qui c'è la lista dei vari modelli la nostra è una serie 9000 quindi serie 9 anziché serie 9M che per i notebook poi possiamo selezionare il sistema operativo di interesse in questo caso potrebbe essere Windows 7 32 64 bit la lingua normalmente è in italiano quindi effettuiamo la ricerca dopo qualche secondo viene corrisposta la versione del drive da scaricare con la data di rilascio le versioni compatibili e la dimensione come puoi vedere abbastanza corposa 163 MB qui una rapida descrizione delle caratteristiche ma la cosa più importante il pulsante download immediato cliccandoci sopra e accettando e scaricando le condizioni d'uso avverrà l'inizio del download che potrai ben definire dove a questo punto noi interrompiamo se vogliamo aggiornare i driver dopo averli scaricati non resta che cliccare sul pulsante start avviare il pannello di controllo e individuare la sezione gestione dispositivi dopo qualche secondo si presenterà la lista dei dispositivi installati come puoi vedere non c'è alcun segno di punteggiatura punte scambative interrogativi perché tutti i driver sono ben installati andando a individuare la sezione scheda video in questo caso come puoi ben vedere Nvidia GeForce 9400 GT cliccando sul destro potremo disattivare o disinstallare la periferica aggiornare il software e quindi in questo caso cliccare sul pulsante cerca il software del driver nel computer e si avvierà la procedura per poter andare ad individuare dove hai scaricato il driver oppure cliccare sul pulsante destro e individuando il pulsante proprietà clicchiamoci sopra per avere in visione alcuni parametri della stessa innanzitutto che il dispositivo è attualmente in uso e funzionante cliccando sul pulsante driver e dettagli del driver avrai in visione i dettagli dei driver installati attualmente anche qui potrai disattivare e disinstallare la periferica ma noi dobbiamo aggiornare i driver stesso discorso cliccando su cerca il software del driver si avverrà la procedura guidata e qui andrai ad individuare tramite il pulsante sfoglia dove è ubicato il file che hai scaricato ma adesso interrompiamo altra cosa che volevo farti notare è i dettagli della periferica della scheda grafica questa è una sezione molto importante se in questa sezione si presenta una periferica sconosciuta infatti cliccandoci con il pulsante destro del mouse e accedendo a questa sezione potrai selezionare alcune caratteristiche e alcuni parametri della scheda in questo caso scheda grafica che noi conosciamo ma tutti questi parametri ti potranno essere utili per individuare le informazioni necessarie che ti permetteranno poi di cercare la periferica e di individuare i driver per essa clicchiamo ora su un parametro importante quello che volevo farti notare è proprio questa sigla dove è evidenziata la sigla VEN ossia il produttore in questo caso la stringa 10DE e l'identificativo della periferica 0641 ricordiamoci questi numeri cliccando con il pulsante destro e copiando tutto il parametro e tornando successivamente sul motore di ricerca google potrai inserire il parametro che hai copiato e grazie a questa ricerca potrai individuare appunto che questa stringa appartiene appunto a questa scheda grafica e da qui potrai partire nella ricerca dei driver oppure se non la riesci a individuare ricorda la sigla 10DE copiamo questa sezione e andiamo su questo database trovi due campi di ricerca nel quale poter selezionare in questo caso il codice del produttore 10DE ed eseguire una ricerca che proprio ci conferma l'azienda NVIDIA Corporation oppure selezionare l'altra sezione 0641 ed eseguire una ricerca grazie all'identificativo del dispositivo in questo caso dato che ce ne sono più di uno naturalmente accoppiandola con la ricerca precedente avremmo la pressoché certezza che stiamo parlando di una scheda NVIDIA GeForce e quindi potremo procedere per la ricerca e il download dei driver che ti serviranno supponiamo adesso di voler installare un dispositivo io simulo l'installazione di un mouse USB inserirò il mouse all'interno di una presa USB e in basso a destra nella SysTray potrai verificare l'inizio della procedura di installazione dei driver stessi appena inserito ecco che parte la ricerca dei driver successivamente se tutto funziona correttamente la periferica verrà installata in quanto i driver verranno acquisiti in automatico altrimenti se la procedura dovesse non portare ad esito positivo dovrai individuare questo dispositivo sconosciuto con la sequenza che ti ho appena evidenziato i driver stanno per essere installati dopo che sono stati trovati e attendiamo che l'esito come fortunatamente è accaduto viene portato a termine in maniera positiva e quindi il mouse sarà possibile utilizzarlo da questo momento in poi clicchiamo pure su chiudi per terminare la procedura di installazione bene ora andiamo ad individuare nella sezione dei dispositivi proprio questo mouse sempre da pannello di controllo andiamo ad individuare i dispositivi dal pulsante gestione dispositivi e qui andiamo a cercare il mouse che abbiamo appena installato come puoi vedere ce ne sono diversi installati in questo caso dovrebbe essere questo andiamo a verificare subito con la procedura che ti ho appena evidenziato supponiamo di non sapere nulla nella sezione di hardware andiamo a selezionare i codici 046D quindi reghiamoci nella database che avevamo scelto prima 046D andiamo ad individuare se è un logitech appunto è un mouse logitech quindi come puoi ben vedere anche non conoscendo alcune informazioni con un po' di pazienza sarà possibile individuare da prima la periferica e successivamente i driver se sei particolarmente sfortunato o sfortunata vorrà dire che il fornitore non avrà rilasciato i driver per quel dato sistema operativo e quindi dovrai cercare e sperare di trovarmi alternativi ricordandoti che installando dei driver non proprietari ossia non ufficiali avresti la possibilità di installare dei driver che ti renderanno instabile il sistema operativo o peggio ancora se fossero contaminati da programmi paleoli bene nella prossima lezione terminerò la spiegazione dell'argomento dei driver ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima ciao a presto ciao a presto Grazie a tutti.